Disordini all'interno del carcere minorile Malaspina di Palermo. A provocare l'ira di alcuni giovani è stata la carenza di prosecco per brindare all'arrivo del nuovo anno. Una cella è stata data alle fiamme con la conseguenza che dopo i roghi dei giorni scorsi lo spazio per i reclusi si è ristretto ulteriormente. A pagare ancora una volta i poliziotti penitenziari, due agenti sono infatti rimasti intossicati dal fumo e sono in ospedale. Il tempestivo intervento degli agenti ha scongiurato una degenerazione pericolosissima anche se una cella è da considerarsi fuori uso.